Ragazzi siamo arrivati a Milano e guardate con chi sono, con il mio love che non vedevo da tantissimo Allora niente ragazzi siamo arrivati a Milano e mi sono arrivate molte news da Roma in realtà che hanno iniziato ad aprire le mie valigie e c'è un'altra sorpresa che vi dovrò far vedere quindi rimanete collegate perché ve la vorrei far vedere a breve e non vi preoccupate riguardo tutti i commenti che state facendo, so che è stata Mariana ci saranno degli sviluppi quindi rimanete collegati perché avrò la mia replica a tempo debito per il momento faccio grandi sorrisi, vi ringrazio a tutti quanti per quello che mi state dando per tutto l'amore che mi state facendo ricevere e niente ragazzi qua a Milano il tempo come amore bellissimo, il tempo è bellissimo, piove ma tutto a posto anzi non aspettate, vediamo se piove, sì sì sì, uh piove piove, vedo già il bagnato per terra e niente vediamo chi c'è qua, leggerli tutti è veramente complicato perché siete in tantissimi però mando un super bacio alle mie classiche bimbe che mi sostengono sempre tantissimo tutte le mie fan page che adoro e che mi danno molto amore e mi rendono molto felice quindi continuate a stare vicino, niente ragazzi, vedi la pioggia, si vede la pioggia molto bene, infatti è arrivata a Milano adesso, da Roma a Milano e poi la prossima tappa non si sa, incognita, e niente vi do un mega bacio e stavo per cadere ma questo è tutto a posto perché sapete che sono comica e quindi se fossi caduta sarebbe stato bellissimo in realtà in diretta così fornivamo delle risate a tutti quanti perché il scopo è dare sorrisi ciao ragazzi vi adoro